L'ufficio di piano del distretto di Casalecchio di Reno, in collaborazione con i comuni del distretto, insieme ad ASC e privato sociale, presentano Fase Regno 2010, dal 22 maggio all'11 settembre Sabato 22 maggio, per le vie di casa, caccia al tesoro per le vie della città, Casalecchio ore 14.30 Venerdì 28 maggio, Savigno Sport e Musica, torneo di calcetto, Savigno alle 16.30 Venerdì 4 giugno, A Dream for All, i giovani in piazza, giochi, live musicali, edificazioni in danza, Monteveglio dalle 16 in poi